Io non sono un politico di mestiere e se ho deciso di accettare la proposta di intesa popolare di presentare la mia candidatura alle prossime elezioni politiche è perché da professionista mi sono reso conto che ognuno di noi per quel che sa fare deve accettare la sfida che l'Europa ha mosso all'Italia negli ultimi due anni. Appena in questi giorni cominciamo a vedere gli effetti devastanti della guerra che si conduce contro il nostro paese. Guardate la vicenda dei titoli tossici che oggi occupa le prime pagine dei giornali. C'è una delle maggiori banche italiane che ha perpetrato una operazione truffaldina in danno non solo dei propri clienti e azionisti ma dell'intero sistema bancario italiano e l'organismo di vigilanza della Banca d'Italia appare come vittima. Quell'organismo che ha poteri così forti da poter chiudere nel giro di 24 ore non solo una filiale ma addirittura una banca a interdire i suoi amministratori. Guardate le vicende dello spread che si muove a seconda delle convenienze del governo Monti nato come governo tecnico e che oggi vede il suo leader candidato alla politica per continuare a tenere l'Italia come paese servente degli interessi tedeschi. Ma questo è forse osare troppo. Più modestamente se andrò a Montecitorio io proverò a mettere le mani sulla legislazione codicistica penale e amministrativa. Sembrano due ordini disciplinari che non si incontrano mai, invece debbono incontrarsi. Perché se noi riusciamo ad introdurre trasparenza nella normativa processuale penale richiamando i principi della trasparenza amministrativa che vent'anni fa furono codificati nella legge 241, noi miglioreremo il servizio della giustizia penale, la renderemo più garantista e più efficiente. Perché sono sempre stato convinto del fatto che garantismo ed efficienza vadano di pari passo. E poi c'è il problema di modificare il codice del processo amministrativo. Voglio riportare la legislazione processuale amministrativa al momento precedente al codice lasciando soltanto la parte migliore del codice che è quella che semplifica i problemi di interpretazione del ruolo dei giudici, del potere dei giudici nei confronti della domanda di giustizia. Il lavoro da fare è molto ma non è impossibile e penso possa consentirmi di continuare a fare il mio mestiere di avvocato dal quale traggo i mezzi del vivere senza bisogno di ricorrere ad altre forme di finanziamento e sedere al contempo in Parlamento per portare un'esperienza più che ventennale. Sono troppo anziano per credere di poter riformare il nostro mondo ma anche troppo giovane per immaginare che questo mondo non possa essere migliorato. Ecco perché chiedo un voto sulla mia persona dicendo prima che cosa andrò a fare dopo. L'unica cosa che so fare è migliorare la normativa. Grazie a tutti.